Eccoci qua, ancora in Bifitti Sassuolo, dove aspettiamo tutti quelli che vogliono fare i giocatori. Magari, magari. Senti, si stava parlando di, oggi guardavo un altro video che hai visto che tu, di streetlifting, quella roba lì, zavorrate, ed è un po' che comunque ci si mette a fare queste cose perché dal bodybuilding cosa succede? Ci sono dei transfer che vanno a finire da altri sport, per cui determinate cose che abbiamo fatto noi, come car, supinati, amartello, che fanno bracciale, bracciale, bracchio radiale, tutto il resto, poi si possono sfruttare dopo anni e anni facendo questi che chiamo giochetti, ma senza offendere nessuno sport, perché è una cosa che piace tantissimo. Poi, se tu hai visto il video di oggi, sono venuto da un infortunio, se hai visto il video di oggi, che si mettono dei pezzettini di me quando ero sofferente, ma non mi tirò mai dietro niente, abbiamo sistemato questo polso con tanta fatica perché è stata... Ci abbiamo messo un po', eh? Ci abbiamo messo un po' che... Ma mi ricordo quando sei venuto, ma mi ricordo quando hai iniziato. Eh, lo so, ma la gente ci gioca, noi ci divertiamo. Andiamo a fare qualche zavorrate, vediamo cosa succede quando un bodybuilder si mette a fare queste sport. Sì, però magari non usiamo tutto il carico che usi di solito, facciamo... Giacchiamo un pochino. Ma sì, perché sennò... Demostrazioncina. Pace, fratelli. Eccoci qui in palestra, siamo io, il nano. Ma abbiamo 25. Tutto a posto? Ti manca qualcosa? Ma i calzini di Forense non ce li hai. No, non ce li ho, non ce li hai. Bravo ragazzi. Si prodica a mettere i pezzettini dei miei video, però è bravo. E bisogna vedere. Ok. Allora, quando so che mi attacchi, vedi che con i piedi sono giù, e va, se no mi rompono i coglioni. E' uno, è andato. Allora, attenzione. Ale, vieni qua. No, andiamo i miei primi i piedi, se no dici che siamo da qualche parte. Ok. Ale, un metro e 91. Il nano, quant'è il nano? Due, due, zero, due. Kit è morto. Bella. 50, va bene Ale? Yes. Dov'è il mio nano? Eccolo qua. Nano è qua. Testimone. Nano testimone. Allora, viaggi i piedi. Ok? Che? Come da sta cinta? In galera hanno più dignità, secondo me. Ok. Allora Massimo, tutto quello che fai qui, anche solo questo. Ah, ma quello facciamo, li facciamo venire qua a trovarci, si può con Sardini e mettiamo tutto quello che ci serve. Adesso facciamo così, dai. Vai. Ok. Quindi, metterla qua. Non è un'esperienza, esattamente scende qua. Come si può?